Perchè hai dato la palizzata? Perchè hai fatto il cambio da lato? Perchè dopo mi veniva scambio da lato. Perchè non me la fai perché era la tua scambio. Il tempo ti coni faccio il tempo! Perchè hai visto il tempo. Perchè hai visto il tempo! Perchè hai visto il tempo! Grazie a tutti. Grazie a tutti.